Infrastrutture, sanità e lavoro sono i tre temi al centro dell'attenzione di Vincenzo De Luca che ha fatto tappa a Bellizzi nel Salernitano per presentare il piano per l'aeroporto di Salerno e la viabilità collegata che riguarda la Piana del Sele, la Valle dell'Irno e non solo. Complessivamente noi investiamo nelle infrastrutture per l'aeroporto altri 150 milioni di euro, 100 milioni per portare la metropolitana di Salerno fino davanti all'aeroporto e 50 milioni di euro per completare la Versana, scavalcare anche il Sele, collegare con il Cilento. Dunque è un intervento davvero straordinario. Dobbiamo adesso solo aspettare che il Ministero dell'Economia firmi il decreto finale. Stiamo aspettando quest'ultimo timbro, altrimenti dovremo fare quella iniziativa di lotta che abbiamo lanciato qualche settimana fa. Portiamo i sindaci, gli amministratori a Roma per farli svegliare perché questi dormono in piedi. Il governatore ha poi annunciato che fra due settimane sarà pubblicato il bando per il piano lavoro della regione che prevede l'assunzione di 10 mila giovani. De Luca ha poi attaccato il governo sul mezzogiorno. Quello che dobbiamo rilevare è che per il sud non c'è nulla di nulla di nulla. Le frottole che raccontano il decreto sblocca cantieri rimangono frottole. Ho appena rilevato che investiamo più come regione in quest'area di quanto non investa in Italia il governo nazionale. Intanto, nel suo consueto appuntamento settimanale sull'Ira TV, De Luca è tornato anche sulla vicenda all'enzuola del Cardarelli. Siamo stati ricattati da dei farabutti le parole del governatore a proposito della vecchia impresa giudicatare del servizio che poi ha attaccato l'informazione, salvo solo il 10% del sistema, ha concluso il governatore. Il resto o sono farabutti o analfabeti. Grazie. Grazie.